Aileen è una donna odiata da molti. Negli anni tantissime persone l'hanno definita un mostro, ma altre tante si sono riviste in lei e hanno provato compassione. Più che mostro, molti la definirebbero vittima. Ciao belli de zio, anche se senza barba potrei essere al massimo vostro nipote. Sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi in particolare voglio raccontarvi una storia piuttosto strana. La maggior parte delle persone che ascolterà ciò che sto per dire non farà fatica ad immedesimarsi e addirittura a capire il motivo per cui sono state fatte alcune cose a dir poco terribili. Prima di raccontarvi tutto ciò però voglio avvisarvi del fatto che sta uscendo la seconda stagione del mio podcast insieme a The Link Rimeland che si chiama Red Room. Sta uscendo la seconda stagione, è uscito il primo episodio giovedì, quindi ieri in teoria. Andate a recuperarlo dopo questo video se volete perché in quell'episodio parliamo di una setta, una chiesa molto controversa, una storia veramente assurda e ci sarà pure un ospite. Quindi andate a recuperarlo e io spero che vi piacerà. Detto questo cominciamo subito. Aileen Wuornos nasce a Rochester nel Michigan il 29 febbraio 1956. I suoi problemi cominciano direi subito a partire proprio dalla sua stessa famiglia. Come in molti casi di cui già abbiamo parlato, purtroppo l'infanzia di Aileen è un vero schifo. I suoi genitori sono Diane e Leo che si sono sposati da giovanissimi. Diane, la madre, al momento delle nozze aveva solo 14 anni mentre Leo solo 16. Praticamente si sono sposati da ragazzini e non so neanche perché fosse legale ma tant'è. La cosa importante che dovete sapere è che Diane e Leo sono una coppia terribile. Non solo non stanno bene insieme ma Leo è un autentico criminale. Spesso è in galera per reati che più passa il tempo più diventano gravi e una fonte addirittura dice che soffre di schizofrenia quindi potete immaginare. La piccola Aileen nasce in una situazione familiare assurda. Lei è la secondogenita della famiglia perché suo fratello è stato concepito prima del matrimonio ma sempre dagli stessi genitori. Appena due mesi prima della nascita di Aileen, Diane e Leo sono in procinto di divorzio quindi Aileen in realtà non avrà mai l'opportunità di conoscere veramente suo padre biologico. Non solo per questa faccenda del divorzio ma più che altro per il fatto che suo padre era spesso in carcere. Come detto prima Leo commette reati sempre più gravi fino a commettere dei crimini di natura sessuale su minori. Esatto, suo padre praticamente era un pedoppilo. Questa volta viene accusato e condannato per stupro e tentato omicidio ai danni di una bambina di 7 anni. Da quello che sappiamo quindi diciamo che forse è un bene che Aileen non lo abbia mai conosciuto ma intanto Leo viene mandato in diverse cliniche psichiatriche e la sua situazione non migliora affatto. Anzi va sempre peggio. Nel 1969 infatti si toglie la vita impiccandosi nella sua cella. Probabilmente era distrutto psicologicamente per ciò che aveva fatto. Anche se un'altra fonte spiega questo evento, questa dinamica in modo diverso. Si dice infatti che la sua morte non è dovuta ad un suicidio quanto più ad una conseguenza di un regolamento dei conti. Cito testualmente. Pare che avesse avuto qualche litigio con dei detenuti per via del crimine che aveva commesso. Da quello che ho letto in giro pare che sia più probabile la vicenda dell'impiccagione ma per sicurezza vi ho riportato entrambe le versioni. Ad ogni modo questa ennesima tragedia non tocca più di tanto la vita di Aileen né quella di suo fratello o di sua madre. Leo è sempre stato un padre assente per cui la sua morte non ha un vero peso per loro. A Diane infatti la madre non interessa più nulla di lui o del fatto che sia morto anzi proprio lei se ne frega altamente sia di Leo che in realtà poi anche dei suoi figli. Prima della morte di Leo infatti Diane lascia sua figlia Aileen e il fratello maggiore dai nonni. A questo punto i bambini sono ancora molto piccoli e non si rendono conto di ciò che sta succedendo. Diane in sostanza va dai nonni, lascia i bambini, dice sì tra poco torno senza dire nulla nemmeno ai nonni dei bambini quindi ai suoi genitori li abbandona lì e se ne va e non tornerà mai più e non vedrà mai più i suoi figli. Come Leo anche lei da un giorno all'altro esce definitivamente dalle loro vite. Ora tocca ai nonni quindi crescere questi bambini e lo fanno come possono e dopo un po' di tempo morto Leo i nonni adottano legalmente sia Aileen che suo fratello. Vorrei tanto dirvi che da qui in avanti va tutto bene che i bambini crescono finalmente sani in un ambiente amorevole ma chiaramente non è così sto parlando io non poteva essere altrimenti. Anzi addirittura Aileen vive un periodo forse peggiore di quello vissuto con sua madre. Prima era troppo piccola per capire cosa le accadeva attorno ma adesso cresciuta e vicina all'adolescenza comincia a capire. Ok partiamo dal fatto che suo nonno quindi il nuovo tutore legale è un ubriacone e comincia ad approfittarsi di lei anche in modo intimo. Non sappiamo se facesse violenza anche sul fratello ma è poco probabile e questo perché è la stessa Aileen che comincia ad approfittarsi di suo fratello nel senso i due cominciano ad avere dei rapporti non sappiamo se fossero consensuali ma fatto sta che si tratta di una situazione estremamente malata i due fratelli ancora bambini ok è una situazione molto strana in più il nonno appunto comincia ad abusare in maniera intima di Aileen quindi i due sono solo dei bambini e tutto quello che hanno conosciuto nella loro breve vita è violenza fisica e intima non va bene cavolo Aileen quindi purtroppo cresce così da ciò che emerge da quello che ho letto online l'ambiente familiare è tutto basato sul possesso e sulla voglia di fare cose senza regole fregandosene del rispetto e dell'empatia le attività intime passatemi il termine sono all'ordine del giorno e tutto questo porta Aileen non solo a crescere deviata ma a compiere delle cose molto discutibili a soli 11 anni a quest'età infatti comincia ad avere i primi rapporti sessuali con i suoi compagni di scuola e diciamo che vendeva il suo corpo in cambio di sigarette alcol e droghe a 11 anni come se non bastasse suo nonno comincia ad invitare amici amici di famiglia in casa per offrire Aileen anche a loro capitemi non posso e non voglio spiegarvi nel dettaglio ciò che accadeva in quella casa vi lascio immaginare niente questa è la sua infanzia il periodo che dovrebbe essere il più felice e spensierato della vita per lei è stato una tortura letteralmente e purtroppo andrà sempre peggio se già vi sembra troppo sappiate che siamo solo all'inizio all'età di 14 anni Aileen diventa molto diciamo promiscua perché comincia ad avere i primi rapporti con vari uomini tra cui vabbè gli amici del nonno poverina ma anche con sconosciuti incontrati a caso e quindi comincia letteralmente e effettivamente a prostituirsi all'età di 14 anni in cambio di soldi e purtroppo rimane incinta di uno degli amici di suo nonno informazione però da prendere con le pinze perché l'ho trovata in una sola fonte non sono riuscito a verificarla al 100% ve lo riporto comunque perché è una cosa interessante infatti Aileen dopo aver scoperto di questa presunta gravidanza viene portata in una struttura di giovani madri in difficoltà in cui effettivamente partorisce nel 1971 dalla luce una bambina ma non potendo prendersene cura viene data in adozione come se non fosse successo nulla torna di nuovo dai suoi nonni ma ecco che cominciano ad accadere una serie di disgrazie che peggiorano la sua già delicata situazione anche mentale sua nonna muore di insufficienza epatica e da lì la ragazza abbandona la scuola ma rimane comunque a vivere con il nonno e con suo fratello maggiore ma appena arrivata all'età di 15 anni suo nonno decide così da un giorno all'altro di cacciarli di casa sia lei che suo fratello a 15 anni e da lì i due prenderanno strade diverse lei comincia diciamo si rifugia nei boschi lì intorno e cerca di andare avanti non ha un posto in cui dormire chiaramente quindi fa l'unica cosa che conosceva e si prostituisce non ha più parenti non ha soldi siamo negli anni 70 in cui il fenomeno dell'autostop diventa famosissimo in tutto il mondo ed è proprio così che Aileen cerca di cavarsela facendo la prostituta diciamo che scrocca tra virgolette dei passaggi ai clienti che la portano da un posto all'altro e magari la ospitano pure in casa in tutto ciò guadagna anche un pochino di soldi grazie alla sua attività e ragazzi purtroppo era ovvio che si sarebbe comportata così cioè lei non ha conosciuto altro che questo lei era sempre stata vittima di violenze sessuali aveva capito che quello era davvero l'unico modo per ricevere qualcosa in cambio l'unico modo per ricevere soldi attenzioni magari anche un attimo di effetto comunque un attimo in cui veniva considerata da qualcuno nella sua mente in base a tutto quello che ha subito non c'erano altre possibilità e a questo punto non aveva nemmeno gli strumenti per vederne di altre possibilità tuttavia passa del tempo in questo modo Aileen continua con la sua attività in strada e arriva il 1974 Aileen ora ha 18 anni e si trova in colorado per qualche motivo sappiamo che ha viaggiato parecchio di stato in stato grazie a questo suo lavoro e sappiamo anche che era stata arrestata per vari motivi tra cui guida in stato di ebrezza disturbo della quiete pubblica e altri crimini meno gravi a solo 18 anni ha già in suo possesso una pistola calibro 22 detenuta illegalmente e comprata non si sa bene dove per tutti questi crimini però non le viene dato chissà che cioè se la cava sempre con poco e ne esce pulita e pronta per continuare la sua vita da nomade nel 1976 quindi si trova in florida e ci sta per un po di tempo capisce che arrivata a questo punto ha bisogno di un po più di stabilità e dato che la florida è uno stato tendenzialmente ricco spera di trovare un uomo che possa mantenerla tenete sempre a mente che lei non ha mai imparato che cos'è l'amore né tantomeno ha mai avuto esperienze di altri sentimenti positivi ormai ha la mente programmata per vedere tutto per uno scopo quindi per lei l'idea di matrimonio è uguale a fare soldi fine e in effetti trova un uomo un facoltoso 69enne di nome lewis gratz fell il proprietario di uno yacht club aileen quindi trova quello che stava cercando e i due si sposano direi anche troppo in fretta e la loro unione infatti dura poco pochissimo da alcune parti si dice che il loro matrimonio sia durato poche settimane mentre da altri si dice sia durato circa due mesi sta di fatto che aileen in questo periodo fa tante cose spiacevoli sperpera molti dei soldi di suo marito poi comincia a fare a botte in diversi bar e finisce persino in galera per una di queste aggressioni una volta uscita procede anche ad infierire in modo violento sul suo marito lewis pensate che lo picchia col suo stesso bastone e dopo di ciò capendo che per lui aileen era una donna pericolosa il rapporto tra i due finisce lui ottiene persino un ordine restrittivo nei suoi confronti giustamente ormai aileen ha sviluppato una rabbia che vuole sfogare sempre sia nei rapporti sessuali sia con le botte è diventata una donna molto violenta che vuole e deve sfogarsi e direi che potevamo aspettarcelo tutti quanti e così il suo matrimonio finisce e non avendo più niente da fare in florida parte per il michigan nel 1976 viene accusata di nuovo di aggressione e disturbo della quiete pubblica sempre per un'altra rissa in un bar questa volta però ha aggredito proprio il barista ormai cioè quasi chiunque entri in contatto con lei è potenzialmente in pericolo aileen come avete capito è una donna veramente manesca irascibile intrattabile ce l'ha con tutto il mondo e con la società ed è solo questione di tempo prima che esploda in modo incontrollabile da qui in avanti infatti fa un via vai tra diversi carceri per via di vari crimini minori è sostanzialmente una scroccona in cerca di uomini che le diano un posto in cui dormire e dei soldi in cambio naturalmente di prestazioni sessuali sempre nel 76 suo fratello purtroppo muore di cancro all'esofago e aileen ottiene 10.000 dollari dalla sua assicurazione ovviamente è felice per questi soldi e non ho ben capito se in realtà fosse anche dispiaciuta per suo fratello fatto sta che con questi 10.000 dollari fa due cose sostanzialmente e infatti non le durano molto le durano circa due mesi per la precisione e questo perché ha pagato una multa che aveva da tempo e si è comprata una macchina macchina che però distrugge nel giro di pochissimo tempo non si sa bene come ma la distrugge ad ogni modo quindi passa altro tempo e arriviamo al 1981 aileen torna in florida e così a caso decide di rapinare un mini market non ottiene un grosso bottino anzi esce di lì con 35 dollari e due pacchetti di sigarette ma viene subito beccata per cui viene di nuovo arrestata ma non è dispiaciuta anzi perché pare che volesse essere arrestata ormai pensateci non aveva una casa non aveva un posto dove stare e in cella avrebbe avuto un posto letto un bagno e del cibo è letteralmente ridotta alla miseria e in realtà in prigione non è che stava così male dunque viene arrestata e viene poi rilasciata dopo un anno e pochi giorni dopo dal rilascio viene di nuovo arrestata aveva tentato di riscuotere degli assegni false o qualcosa del genere quindi continua con questi suoi piccoli crimini si ipotizza appunto per stare in prigione per avere un letto del cibo e passa anni a fare questa cosa questa vita qui finché nel 1986 non incontra una donna con cui si mette assieme perché in qualche modo sente una sorta di connessione con lei una connessione che non aveva mai sentito con nessuno in vita sua sente comunque qualcosa verso di lei cioè un qualcosa che si avvicina un pochino a dei sentimenti veri ma all'inizio non sembra comunque una cosa così importante sembra piuttosto un'altra sua conquista per puro interesse materiale quindi di nuovo un posto letto dei soldi e del sesso la donna che incontra e con cui si mette insieme si chiama tyria moore ed è una cameriera le due si conoscono in un locale gay ad itona beach dove la stessa tyria lavora anche se una fonte dice che invece lavorava in un albergo comunque le due vanno a vivere insieme e eileen cerca di mantenere entrambe continuando a prostituirsi cioè si sente in dovere di fare sempre più soldi anche per prendersi cura di tyria e qui si apre un nuovo capitolo della sua vita un capitolo che però sarà ancora più scuro del precedente eileen prova a portare i soldi a casa dal suo lavoro di prostituta ma il tempo sta passando e lei diciamo che non è più prestante tra virgolette come una volta gli affari cominciano ad andare piuttosto male i clienti sono sempre di meno se prima poteva scegliere con chi andare adesso era costretta ad accettare chiunque veramente chiunque e spesso erano uomini disperati di mezza età adesso l'unica cosa che sapeva fare non le riusciva neanche più bene e per lei ovviamente è un problema grossissimo inoltre continua comunque a compiere i piccoli crimini come rapine aggressioni ma tyria ogni volta che eileen viene beccata in aula la difende sempre è pronta a sostenerla diventano come una squadra è un periodo molto difficile ancora di più delle altre volte e infatti aileen a un certo punto tenta persino di togliersi la vita ma fallisce un giorno però cambia tutto ritorna di nuovo ad amare tra virgolette la sua vita è il 1989 e da questo anno inizia un periodo di 12 mesi quindi un anno di nuovi crimini violenti molto violenti aileen infatti arriverà ad uccidere sette uomini più o meno tutti allo stesso modo ma come è arrivata a fare tutto ciò prima d'ora non aveva mai ucciso nessuno perché da un momento all'altro ha cominciato è scattato sicuramente qualcosa in lei ma andiamo con ordine e parliamo della prima vittima è qui che appunto inizia la sua furia omicida il primo uomo si chiama richard mellory a 51 anni ed è titolare di un negozio di elettronica le dinamiche dell'omicidio non sono chiarissime stando alle parole future di aileen l'uomo sarebbe stato uno dei suoi tanti clienti che però le avrebbe fatto del male lei racconta che semplicemente si sarebbe difesa sparandogli con la sua pistola calibro 22 per legittima difesa quindi subito dopo il delitto aileen ritorna dalla sua compagna taeria con l'auto della sua vittima le racconta di aver ucciso un suo cliente di avergli sottratto il veicolo e tempo dopo il 13 dicembre viene scoperto il corpo di questo richard mellory scoprono che era stato colpito più volte e trovano due proiettili nel polmone sinistro che sono stati anche la causa del decesso ma per il momento ancora nessuno sospetta di lei questo è sostanzialmente l'inizio della sua carriera da serial killer una sorta di rivalza contro il mondo che sente che le ha fatto solo del male in sostanza si sta vendicando del genere umano il primo giugno 1990 viene trovato il corpo di un uomo di 47 anni di nome david spears un camionista era stato colpito da sei colpi di arma da fuoco i detective ancora non collegano i due crimini ma pochi giorni dopo scoprono un altro corpo di un altro uomo questa volta si tratta di charles karskadon di 40 anni l'uomo era partito per andare a trovare la sua fidanzata dalla quale però non è mai arrivato questo perché era stato colpito da ben nove colpi di arma da fuoco ancora di più rispetto alle altre vittime inoltre al momento del ritrovamento il suo corpo era già in avanzato stato di decomposizione aileen in ogni caso aveva rubato anche la sua di auto e come al suo solito da quel momento ha cominciato a spostarsi da un luogo all'altro insieme alla sua compagna vivendo sostanzialmente negli hotel nel mentre aileen continua sempre il suo lavoro di prostituta e in questo periodo più o meno si accorge che nella macchina della sua ultima vittima c'era una pistola non la tiene con sé anche perché ne aveva già una tutta sua ma decide stupidamente di venderla ad un banco dei pegni che poi stupidamente oddio magari l'ha fatto apposta per essere beccata non lo so il problema infatti è che questa pistola era registrata a nome della vittima e lei per venderla ha dovuto dare nome e cognome e impronte digitali cosa che fa non dai suo vero nome e cognome ovviamente ma registra le sue impronte e questo dettaglio sarà cruciale per gli investigatori più avanti ma intanto purtroppo la donna ha il tempo di uccidere ancora per tutta la florida il 7 giugno 1990 un certo peter siems di 65 anni o 75 a seconda delle fonti era partito per raggiungere i suoi parenti in arkansas neanche lui arriverà mai a destinazione quando viene trovata la sua auto una pontiac sunbird gli agenti notano un'impronta di mano insanguinata sul cruscotto anche questo sarà un dettaglio fondamentale nelle indagini ma intanto dato che sta accadendo tutto così in fretta e nel giro di pochi giorni non riescono a collegare i delitti come già detto eileen cambia spesso nome e si sposta di continuo non è proprio una sprovveduta la sua compagna tyria poi la iuta diventa letteralmente la sua partner in crime i detective non ci capiscono niente quindi anche perché pare che di questa vittima di peter sims intendo non si riesca proprio a trovare il corpo e pare che non verrà mai ritrovato cioè aileen sta affinando i suoi modus operandi sta diventando sempre più brava e sempre più spietata la sua vendetta quindi continua il 30 luglio 1990 è il turno di eugene bernes quella mattina l'uomo avrebbe dovuto fare una serie di consegne per la ditta di salsicce per cui lavorava le consegne sarebbero dovute avvenire sulla statale 19 proprio la strada sulla quale eileen in quel periodo era solita lavorare quel giorno eugene non soltanto non porterà a termine il suo lavoro ma non tornerà nemmeno mai a casa solo più tardi il suo camion viene trovato in una via nei pressi della statale 19 ma di lui come per peter sims nessuna traccia sparito in una fonte si dice che è stato trovato tempo dopo e che è stato colpito due volte con una pistola ma pare che a fare la macabra scoperta sia stata una famiglia che stava facendo un picnic immaginate che orrore scoprire un corpo in queste condizioni durante un picnic in famiglia anche questo cadavere tra l'altro era in avanzato stato di decomposizione e viene riconosciuto dalla moglie solamente perché indossava la fede nuziale la loro fede poi l'11 settembre 1990 scompare la sua sesta vittima dick humphries un 53enne che aveva lavorato nella polizia dell'alabama in realtà era un uomo molto importante tra le forze dell'ordine non ho ben capito che carica ricoprisse ma sicuramente non era un semplice poliziotto tra virgolette nel 1990 però era in pensione l'uomo comunque viene ritrovato senza vita ucciso da ben sette colpi di pistola sia alla testa che al torso e ora ragazzi arriviamo all'ultima vittima un uomo di 62 anni o 60 a seconda delle fonti il suo nome è walter gino antonio ed è un altro camionista il suo corpo viene ritrovato il 19 novembre 1990 gli avevano sparato quattro volte questa macabra lista finisce qui scusate se sembrava quasi un elenco però i fatti sono accaduti esattamente in quest'ordine e mi sembrava brutto non menzionare tutte le vittime comunque la lista finisce qui perché aileen e la sua compagna tyria finalmente stanno per essere beccate dunque tutto parte da un avvistamento dopo l'ultimo delitto ovvero quello di walter gino antonio aileen e tyria quel giorno stavano guidando un'auto rubata ad una delle vittime quando ad un certo punto si schiantano vicino a delle case vicino a una zona residenziale l'impatto è talmente forte che allarma diversi residenti e persone che abitavano in quelle zone che chiaramente guardano sono curiose dicono oddio cos'è successo scendono e vanno a vedere aileen e tyria sono salve non si fate niente ma non volendo dare nell'occhio dato che hanno già causato un incidente pensano bene di scappare escono dalla macchina dicono ai presenti lì ai curiosi che va tutto bene e scappano via di corsa cioè a piedi cominciano a correre scappano qualcuno però giustamente chiama la polizia e testimonia di aver visto queste due e dalle descrizioni fornite si avvia una campagna mediatica alla ricerca delle donne ed è qui che le cose cominciano davvero a cambiare perché gli investigatori avevano capito che magari queste due donne centravano qualcosa con tutti quegli omicidi innanzitutto devo dirvi che il rapporto tra aileen e tyria si stava distruggendo in quel periodo tyria ha sempre più paura di aileen e non vuole più stare con lei le due cominciano a litigare sempre più spesso e alla fine decidono di mollarsi tyria esce proprio dalla vita di aileen mentre lei continua a fare quello che faceva di solito cioè viaggiare e prostituirsi ora però da quando ha cominciato ad uccidere ha cominciato anche a rivendere molti degli oggetti delle vittime e rivendendo questi oggetti sotto falso nome ha fornito sempre più tracce del suo percorso e comunque di se stessa la polizia delle varie con te quindi capisce finalmente che c'è un collegamento anche grazie ad una criminologa che è stata così brava da intuire abbastanza in fretta che il responsabile dei delitti era una donna e non un uomo e in quegli anni i ragazzi non c'erano praticamente mai state serial killer donne non era così scontato pensare ad una donna ecco per cui solo ora procedono su questa pista e capiscono in fretta che si tratta sempre della stessa donna non solo grazie alle impronte che ha lasciato in giro ma anche grazie a qualche capello ritrovato sul corpo delle vittime quindi la identificano e risalgono al suo passato fatto di crimini e arresti su arresti ma la conferma definitiva di questi sospetti arriva quando la stessa eileen va a vendere un altro oggetto che apparteneva ad una delle sue vittime alla prima nello specifico ovvero a randy mellory vende la sua videocamera in un altro banco dei pegni e anche qui entrano in gioco le impronte digitali che la incastrano anche se è sempre dato nomi falsi ora i detective sanno chi è conoscono il suo volto hanno le sue impronte ma rimane ancora un problema non sanno dove sia per trovarla mettono in piedi una task force e lavorano in incognito ormai conoscevano le sue abitudini era una tipa a cui piaceva frequentare bar per fare a botte o per trovare qualcuno che la ospitasse da qualche parte quindi l'otto o il 9 gennaio 1991 a seconda delle fonti eileen cerca di colpire ancora in un pub di motociclisti di porto orange ma lo fa con le persone sbagliate a bordo a due spacciatori che si fingono interessati a lei ma che in realtà sono due agenti sotto copertura dopo essersi incontrati ad una festa la convincono a recarsi in un motel nelle vicinanze e proprio lì viene arrestata per porto abusivo d'arma da fuoco sulla base di un vecchio mandato in realtà che era stato emesso verso uno dei suoi alter ego per quanto avessero molti indizi contro di lei non erano ancora abbastanza per accusarla di omicidio però comunque in questo modo sono riusciti a fermarla e insomma ad arrestarla per accusarla per quei crimini molto più pesanti per gli omicidi serviva qualcosa di più forte come una confessione per cui gli agenti arrivano alla sua ex a tyria che intanto si era stabilita in pennsylvania la rintracciano le parlano e la donna accetta immediatamente di collaborare da questo momento collegano ancora più punti capiscono per esempio il modus operandi di eileen che era sempre lo stesso ovvero che dopo aver fatto l'autostop si accordava con gli uomini in cambio di rapporti intimi e una volta appartata con loro li uccideva e li derubava poi rivendeva i loro oggetti a vari banchi dei pegni un altro dettaglio molto importante che le sue vittime erano tutte di sesso maschile che lei odiava odiava tutti gli uomini e ci credo perché durante tutta la sua vita ha avuto solo degli uomini che l'hanno massacrata diciamo comunque erano tutte persone bianche le sue vittime e di mezza età sui 40 50 anni i loro cadaveri erano stati tutti rinvenuti senza vestiti e quindi si può dire che aileen li scegliesse con cura perché sembrava che cercasse persone che viaggiavano molto e con tutte queste caratteristiche li cogliava di sorpresa senza dar loro la possibilità di difendersi ma comunque tornando a noi gli agenti spingono la sua ex Tyria a parlare con aileen al telefono mentre la discussione viene registrata passano così tre giorni di telefonate in cui aileen capisce in effetti di essere intercettata capisce che la sua ex vuole farla parlare per farla arrestare e stranamente qui aileen mostra un po di umanità un po di pietà diciamo dimostra di aver veramente provato qualcosa per per lei per la sua ex forse non amore ma di sicuro affetto comunque qualcosa perché aileen alla fine ammette di aver ucciso questi uomini scagionando Tyria al telefono infatti parla in modo tale da far sì che Tyria non venisse mai messa in mezzo in questa storia e lo fa per prendersi solo lei la colpa e scagionare l'ex da ogni responsabilità questo gesto che possiamo definire quasi romantico porta all'arresto ufficiale e all'inizio del processo contro aileen warnos il processo a carico della serial killer della florida inizia il 14 gennaio 1992 all'inizio si prende in considerazione solo la prima vittima ovvero richard melory verranno fatti in totale sette processi tutti separati uno per ogni vittima gli avvocati della difesa sperano di riuscire a dimostrare la teoria della legittima difesa almeno per il primo processo perché appunto se vi ricordate il primo delitto sembrava essere davvero nato a causa dello stesso richard che stando alle parole di aileen aveva aggredita e quindi lei lo ha ucciso per legittima difesa aileen tuttavia viene interrogata spesso durante il corso dei vari processi e spesso cambia versione la sua assoluta mentale a questo punto sembra peggiorare tantissimo non sembra più in grado di fare un discorso sensato per cui progressivamente le cose si mettono sempre peggio il 31 gennaio 1992 aileen viene condannata a morte condanna ad eseguirsi tramite sedia elettrica ma non finisce qui perché avvengono altri processi in cui non solo aileen continua a cambiare versione più volte ma addirittura insulta il pubblico ministero gli augura che sua moglie e i suoi figli vengano violentati e sodomizzati e questo naturalmente peggiora ancora di più la sua situazione credo che a questo punto in realtà lei volesse morire cioè dopo tutto quello che aveva passato per lei non aveva neanche più senso stare al mondo quindi non le importava nemmeno delle conseguenze delle sue azioni alla fine era già stata condannata a morte alla sedia elettrica quindi ha senso e infatti in un'intervista ha anche detto di non vedere l'ora di essere giustiziata sinceramente un po mi dispiace per la vita che ha passato e non è una giustificazione per i suoi omicidi sia chiaro anzi però credo che in questo caso sia davvero semplice capire i motivi per cui ha ucciso non voglio dire cavolate ma penso che con una vita così chiunque avrebbe potuto uccidere ma tornando ai processi chiaramente nessun avvocato a questo punto può difenderla il 15 maggio del 92 viene condannata a tre condanne a morte anche per gli omicidi di dick humphries troy barnes e david spears stesso verdetto per quanto riguarda la morte di charles karskadon e walter antonio in totale eileen colleziona ben sei condanne a morte ovviamente la donna viene sottoposta a varie perizie psichiatriche ma viene dimostrato che era capace di intendere di volere perciò rimane così per un po nel braccio della morte intanto viene bombardata di interviste spot in tv documentari articoli e ogni volta da di matto su youtube ci sono tantissime delle sue interviste ma in una di queste in particolare parla di tante cose apparentemente senza senso e fa gelare il sangue vederla così in queste interviste dalla colpa ai poliziotti dice che le hanno permesso di continuare ad uccidere in qualche modo dice anche di essere stata spiata e di aver fatto un favore al mondo intero uccidendo quegli uomini e si lamenta anche del fatto che tutti i suoi ricorsi contro la sentenza non siano stati accolti alla fine conclude con queste frasi terrificanti ve le cito ora me ne vado sono felice ringrazio molto la società per avermi preso per il culo il 9 ottobre 2002 dopo 12 anni trascorsi nella prigione di stato di rayford in florida eileen warnos viene giustiziata tramite inizione letale e non tramite sedia elettrica le sue ultime parole furono queste sì vorrei solo dire che tornerò come in independence day 6 giugno come nel film con la grande nave madre e tutto il resto tornerò tornerò dopo la morte il suo corpo viene cremato e le sue ceneri vengono ritirate da dawn botkins un'amica di infanzia e vengono portate da lei nella sua città natale nel michigan vengono infine sparse ai piedi di un albero e questa è la fine della sua tristissima vita ragazzi io non so che cosa dirvi non ho parole ripeto che non voglio giustificare gli omicidi in nessun modo ma è innegabile che lei abbia sofferto molto nel corso della sua vita e che le sue azioni terrificanti e ingiustificabili sono la conseguenza degli orrori che ha vissuto non è un caso che molti serial killer abbiano vissuto più o meno le stesse cose e anche nella sua stessa epoca a volte anche negli stessi posti c'era davvero qualcosa che non andava in molte famiglie del tempo e anche se oggi le cose sono cambiate ci sono nuovi pericoli e nuove cose a cui stare attenti il mio consiglio come sempre è quello di imparare da queste storie per evitare di ripetere questi orrori in futuro intanto ai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che presto parleremo di una storia veramente terribile ai livelli del caso di albert fish ragazzi e non so nemmeno perché ho deciso di farlo ma sono sicuro che sarà un video che vi piacerà una storia veramente assurda quindi spero che rimarrete nei paraggi per cui se vi ho incuriositi ricordate di massacrare il pulsante iscriviti e adesso parlo con te sì proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo vi ricordo infine di seguirmi anche su instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao